Hi guys watch my eyes I am David Copperfield yes and I want to congratulate with Luke and Tino for your 30 years of your career congratulations Luke and Tino ci siete cascati eh il mio inglese fluente inganna a tutti Luke e Tino e congratulazioni per i vostri 30 anni di carriera io sono stato fortunato perché vi ho visti e vi ho applauditi sia in Italia che all'estero quindi sono testimone oculare di quanto voi siate artisti trasversali e internazionali perché voi stupite e meravigliate e intrattenete i piccoli come i grandi le donne come gli uomini gli italiani come gli stranieri quindi io auguro a voi il meglio del meglio del meglio per il vostro futuro umano e artistico e auguro a tutti quelli che non hanno mai avuto l'occasione di vedervi almeno una volta di incrociare al più presto un vostro spettacolo perché i vostri spettacoli fanno bene al cuore e anche alle ganasce anche alla ganasce e auguro invece a me stesso di arrivare alla vostra età fresco pimpante e creativo come voi un grande bacio e un abbraccio di cuore è Grazie a tutti.